Ciao bellezza, il tutorial di oggi è semplicissimo, abbiamo questo eyeliner molto grafico con il matitone bianco all'interno dell'occhio e il bellissimo rossetto sangria di Milani. Iniziamo stendendo un ombretto opaco dalla palette Iconic 2 e con un matitone bianco andiamo poi a illuminare l'angolo interno arrivando fino a metà dell'occhio. Successivamente lo andiamo a fissare con un ombretto perlato bianco. Andiamo poi a tracciare la nostra linea di eyeliner che sarà molto grafica soprattutto nella parte inferiore dove andremo a staccarla man mano che ci avviciniamo al centro dell'occhio e diventerà sempre più sottile andando verso il bianco. Matitone bianco anche all'interno dell'occhio, mascara e ciglia finte se volete. Sulle gote applico un blush sui toni del prugna e vado poi ad applicare il bellissimo rossetto sangria di Milani che è appunto un color prugna, un binaccio ed è davvero stupendo. Spero che questo video vi sia piaciuto, io vi mando un bacione, ciao! Buongiorno, stiamo uscendo adesso di casa. Che ore sono? Le 10?